Due arresti e oltre 10 kg di droga sono stati sequestrati in un'operazione della polizia di Padova nel capoluogo Euganeo e a Fiesso d'Artico nel Veneziano. L'indagine è stata avviata in seguito a un altro sequestro di droga da parte della squadra mobile avvenuto a novembre nei confronti di un 55enne della provincia di Pistoia, sorpreso trasportare circa 5 kg di marioana e arrestato. Gli approfondimenti coordinati dalla procura della Repubblica hanno portato gli agenti sulle tracce di un 64enne di Padova e a individuare un garage dove avrebbe potuto tenere lo stupefacente. Assieme a lui è stato sorvegliato un uomo di Fiesso d'Artico di 41 anni. Dopo appostamenti e pedinamenti è stata decisa l'irruzione nel garage dove in una cassaforte sono stati trovati oltre 7 kg di cocaina, confezionata in 5 panetti e altri involucri e oltre un chilo di marioana. Nell'abitazione a Padova i poliziotti hanno sequestrato altra marioana per 2 kg assieme a 1.800 euro in contanti. A Fiesso oltre 8.500 euro ritenuti provento del traffico di stupefacenti assieme a materiale per il confezionamento.